Sarà un investimento di 5 milioni di euro quello messo in campo dalla nuova società Puana Lavorati per realizzare un'importante segria del marmo in località Isola di Rocca Alberti nel comune di Camporgiano, proprio sulla strada che porta a Vagli. Con una partecipata cerimonia si è proceduta la messa in posa della prima pietra, una targa che riporta la data del 7 aprile 2016, un vaglino, piccola moneta locale che richiama l'immagine del paese sommerso di fabbriche di Caregine e una pergamena firmata da tutti i protagonisti di questa giornata. Dopo la benedizione da parte di Don Giuliano Salotti è stato il sindaco Francesco Pifferi a sottolineare l'importanza di questo progetto anche dal punto di vista occupazionale. Sì perché questa iniziativa completando la filiera produttiva attraverso la trasformazione del loco del materiale con grande valore aggiunto crea presupposti per nuova occupazione. In un momento di grande crisi nazionale e in particolare della Valle del Serchio noi riusciamo a dare una notizia positiva e che ha sicuramente la possibilità di durare nel tempo. A fare gli onori di casa il presidente della nuova società Ottavio Baisi il quale ha sottolineato che questo progetto di fatto è anche una risposta concreta alle tante polemiche legate all'estrazione del marmo. Il fatto di investire per realizzare un ciclo lavorativo in zona è la strada corretta per arrivare ad un giusto equilibrio tra l'escavazione e la lavorazione del marmo. Grazie alla regione toscana con questa nuova legge abbiamo costituito anche noi questa nuova società per lavorare finalmente i marmi di vagli in loco. Sicuramente crea posti di lavoro, più di 10 posti saranno disponibili, credo che nei due anni saremo competitivi e potremo essere pronti sul mercato.